Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenow Art Ecco che andiamo subito all'avventura Qui c'è Francesco, il mio personaggio E andiamo subito a parlare con un tizio qua Che dobbiamo parlare Ah, quello lì, ok I Mai Ah, finalmente Sei qui, immagino Se tu voglio aiutarla potete imparare Grazie mille, avevo pregato La scena non di portarmi qualcuno Che fosse abbastanza forte da combattere al mio fianco Vieni Ah, finalmente, dopo una lunga passeggiata Oh, che sale Il cuore del tempo Ok Va bene, andiamo Ho, ho, ho This Is the scroll of eternity All of time All of history Everything It's all listed in here But Here Just take a look at this Just take a look at this Ah, la storia è cambiata As you can see If history Is in any way Altered or distorted It could change the world As we know it We have no choice We have to stop it We can't let history change Right now Goku is in trouble And needs help Please Certo, aiutiamo Era 761 This is your last chance Come, join your family Kakarot Radish I'll do you a favor And spare you both Shut up There is no way I'd ever join you Then playtime is over What? Leave my daddy Alive! 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 You crats! Stop! Compete la storia Ed ecco che interveniamo noi No But Heheheeh Hehehee I'm pretty sure that it's someone we can trust This is divine L'invasione della terra, il guerriero Radish, condizioni di victor, sconfiggi Radish, piacere, giocatore esaurito, ok. Now, I'll be backing you up from the time nest. Listen, this Raditz, he's stronger and cruel than his historical form. Please, I need you to defeat Raditz, so go come and the others can finish him. This one, this. Oh, damn, I spent a get. Kakarot, are you going to kill your only brother? Horrible. Heartless guy like you is not my brother. I quit. I, I give up. I'll lead this planet quietly, okay? Don't let him fool you, Goku. Ok, abbiamo sconvitto. Oh, ragazzi, è una grafica spettacolare, sto gioco. Cosa? Cosa stai facendo? Now, Piccolo! Facelo! Special眼鏡! Dammit! Ah! Serves you right. Cosa era quello? Oltre... Grazie mille. E' stato meraviglioso. Non credo che fosse la prima volta. Hai corretto la linea. Buon lavoro. E anche senza effetti. Bene, bene. Ora ho posato il negozio e l'area del negozio. Hai guadagnato un trofeo. Addio Goku. Perfetto. Cosa è sto rumore? Allora, parliamo un attimo con Trunks. Oh, ho dimenticato di dirti una cosa importante. I portidiotori del tempo hanno due incariche principali. Il primo è risolvere i problemi delle pergamene come hai appena fatto. Il secondo con le missioni parallele. Vediamo, provaci per conto tuo. Vedrai che imparerai in fretta. Vai al porto temporale, torna a Toki Toki Sidi e dal cancello vai a sinistra. Oh, madonna. Ho porto temporale, ok. Allora... Ah, lì, ok. Va benissimo. Allora, ci torniamo subito lì. Ok. Alcune missioni parallele non si possono avviare dalla registrazione, ma solo tramite una richiesta di un personaggio di Toki Toki Sidi. Quindi posso andare lì. Ok. Ok. Hai ricevuto vecchio modello di scooter verde. Durante una battaglia premi sinistra per cercare i nemici. Puoi trovare i nemici lontani da vedere qualsiasi cosa... Ok. Ok. Ci sono discute con un aspetto diverso, ma le loro funzioni nello stesso. Si tratta di oggetti fondamentali in battaglia, particolarmente della missione parallele. Ricordi di autorizzarli. Ok. Vabbè, ragazzi. Io lascio qui il video. E... Niente. Ci vediamo al prossimo video. Quindi lasciate un bel like e un commento. Come vedete, nella fine del video troverete l'endcard dove troverete tutte le mie playlist. Se volete dare un'occhiata andateci pure. Niente. Al prossimo video. Ciao ciao.